Ciao e bentornato a una nuova puntata di Critico Digitale. Oggi ti voglio parlare di come scrivere il testo per il tuo sito web, per la tua brochure, per la tua email, insomma per tutte quelle volte che devi comunicare che cosa fai. Critico Digitale.it Guide, storie e idee per gli imprenditori che vogliono capire come usare il digitale per far nascere e crescere il loro business. A cura di Justin Rosati. Il problema di comunicazione è un problema che non ci insegnano a risolvere a scuola. La scuola è vero, ci insegna a parlare, ci insegna a scrivere, nel mio caso ha sbagliato in entrambi i fronti, no scherzo ovviamente mi hanno insegnato bene, però io sono un po' una capra in italiano, lo ammetto direttamente, probabilmente faccio anche strafalcioni durante questa registrazione, provo a parlare il più italiano possibile ma poi ogni tanto un dialetto dei tanti che parlo viene fuori, qualcuno mi dice che ha un accento marchigiano abbastanza presente, comunque spero si capisca tutto e che perdoniate questi strafalcioni. Perdoniate come se foste 50.000 persone allo stadio, sì, no, sei tu e spero che mi perdoni. Allora, io in questi giorni sto rimettendo mano al sito web di mia moglie. Mia moglie ha un sito web, no, mia moglie insieme a mia suocera, anzi al contrario, molto meglio, mia suocera insieme a mia moglie hanno un'azienda che è un laboratorio di analisi chimiche, biologiche privato, in realtà convenzionato anche con il pubblico, quindi puoi andare lì sia con la ricetta sia senza ricetta, così faccio un po' di pubblicità, vieni anche tu al laboratorio di analisi cittadini. No, allora, io in questi giorni sto rivedendo con lei alcune nuove pagine che io volevo assolutamente inserire, volevo spingere a inserirle. Come tutti, ovviamente quando si parla di fare un lavoro per se stessi diventa tutto più complesso, infatti ne ho parlato nella puntata Io sono tuo cugino, che ti linkerò nelle note dell'episodio, valla ad ascoltare, in cui parlo del fatto che quando si lavora con un cugino, che nel caso specifico potrei essere anche io, quindi una persona di cui davvero pagheresti per avere la prestazione, ma quando lavori poi per un parente o comunque un amico, comunque senza quel rapporto lavorativo, le cose vengono peggio, vengono assolutamente peggio, io sono il primo a dirlo e infatti con mia moglie io ho un contratto normale di consulenza e di lavoro e tendo anche a cercare di lavorarci il meno possibile io direttamente, ma con dei miei collaboratori, anzi dei miei colleghi, perché i collaboratori sembra che siamo un'agenzia, invece noi siamo un'azienda, quindi i miei colleghi di solito parlano con lei o con mia suocera, io intervengo soltanto quando proprio strettamente necessario, come in questo caso che non ci dava il testo, e non ci dà il testo, cioè noi dobbiamo mettere sulle pagine, non ci dà il testo, ma è difficile scrivere il testo, e non è affatto facile, perché andare a scrivere che siamo leader del mercato o che proviamo ad essere un gruppo che oltre a essere fornitore e partner del cliente, io te lo dico e perdonerai la parolaccia, è una cazzata pazzesca, cioè nessuno, tu devi pensare, ecco guarda per capire se è una frase che ha senso scrivere, pensa qualcuno direbbe mai il contrario, cioè qualcuno direbbe mai che non vuole essere partner del cliente, qualcuno non direbbe mai che non cerca la qualità, qualcuno direbbe mai che non è uno specialista di settore, allora se qualcuno non direbbe mai il contrario, allora quella frase non ha senso, non ha senso scriverla, questo è in generale, poi un giorno magari farò un'intera puntata sulla pagina chi siamo, perché secondo me è interessantissima e in pochi sanno che è una delle pagine più visitate dei siti web, il chi siamo, dopo la home è una delle pagine visitate, più visitate ovviamente per siti web aziendali, ma anche se vendi servizi eccetera, cioè da chi compro la domanda, perlomeno in Italia, è sempre presente. Allora se torniamo ai testi, all'efficacia dei testi e che cosa scrivere, nel mio caso, ti faccio un esempio concreto, era il testo per la fertilità maschile e femminile, è un testo delicato, allora se io riesco a farti scrivere un testo delicato, pensa negli altri testi quanto potresti essere performante da solo, poi se hai bisogno di una mano io non ho problemi, però io voglio renderti autonomo il più possibile o comunque farti pensare a che testi hai ora o che testi dovrei creare in futuro, con quale piglio, perché io ti do questo consiglio, perché in realtà anche tu poi vai a fidarti dei testi scritti in questo modo, magari non ci hai mai fatto caso, ma sono quelli che ti catturano di più, il famoso aranzulla è come se fosse un amico che ti sta spiegando come risolvere un problema e questo è l'how to, il come fare, è uno di quei testi che è molto molto utilizzato ed è molto molto, come dire, di alto livello per il cliente finale o per la persona finale, perché quando trovi qualcuno all'altra parte che ti spiega, che si pone di fianco a te, è molto meglio di qualcuno che cerca di posizionarsi molto più figo di te, anche se in un settore diverso, essere leader del mercato e allora io non sono sicuro di poter affidarmi al leader del mercato, quanto costerà? Ma davvero fa per me? Ci sono tante domande a cui rispondere a seconda del settore, ma veniamo a noi e parliamo io e te, vediamo un po', facciamo finta che sia tu un uomo o una donna, che tu abbia un problema di fertilità, un problema di fertilità è un problema grave, tu lo senti già, dici cavolo ma io se non riuscissi ad avere un bimbo, mamma mia che preoccupazione, ed è giusto e allora se questa è la prima sensazione che ti lascia questa problematica. Qual è secondo te la prima frase? O nelle prime frasi che cosa dovresti dire? Beh sicuramente tranquillizzare. Allora ci sono due correnti di pensiero, se devi vendere un prodotto c'è la famosa legge dell'agitazione in cui all'inizio agiti il problema in modo che diventi come dire una spinta maggiore per arrivare in fondo e con grande motivazione acquistare il prodotto, ma dato che noi siamo dei professionisti e in questo caso il problema può anche far vergognare, perché per un uomo è un certo tipo di problema, per una donna è un altro certo tipo, è un altro problema, dobbiamo andare con calma. Allora io la prima cosa che ho consigliato per questo testo, che presto vedrai online e anzi spero di aver finito la pagina quando ascolterai questa trasmissione, vai pure su www.laboratorioanalisi.it e troverai la pagina per la fertilità. Ne stiamo facendo varie, ho fatto scrivere il testo alla biologa interna, oltre che mia suocera c'è un'altra dottoressa biologa, oltre ovviamente a altre persone, però diciamo che era la più competente e quella che firma i referti, quindi sicuramente è la persona più competente per poter dare una spiegazione di quali sono gli esami da fare con la fertilità maschile e femminile, quindi siamo partiti da questo testo, un testo molto tecnico, quindi vai su www.laboratorioanalisi.it e troverai questo testo, o poi ne troverai anche altre, adesso a seconda di quando ascolterai questa puntata ci sarà anche quello sulla gravidanza, ci sarà anche quello sulle malattie infettive, insomma troverai varie pagine. Allora, dato che questo è un problema molto grave e che dà due sensazioni alla persona di cui che ne è affetto, dà la sensazione di paura, nell'uomo dà la sensazione di impotenza, di non essere un vero maschio, mentre invece la donna e la donna dà una sensazione di problematica, non posso avere una mia famiglia, non posso tenere in grembo un bambino, cioè sono due problematiche un pochino diverse, so che è brutto da analizzarla così perché stiamo scomponendo il problema, ma ti assicuro che l'unico modo per arrivare alla conclusione di come scrivere è iniziare a parlare e pensare come penserebbe chi si troverà dall'altra parte, quindi partiamo da questo. Se dall'altra parte abbiamo un uomo o una donna è molto diverso. Avendo analizzato questo, da una parte è un problema personale, io non riesco a mettere incinta mia moglie, la mia ragazza o anche, mentre invece per la donna è io non riesco a avere una famiglia, io non riesco a rimanere incinta. Come vedi sono due problemi diversi, quindi sono due problemi diversi. La prima cosa che abbiamo fatto, anzi che io ho consigliato e che sto facendo, perché il testo dopo che me l'ha scritto la biologa lo sto correggendo io, lo sto riscrivendo, è stato scindere due pagine, scindere questo testo in due testi, cioè il testo scritto per l'uomo e il testo scritto per la donna. Tu ci hai mai pensato che nella tua stessa categoria di cliente potresti averne due che puoi scindere, che hanno due esigenze diverse per quanto poi hanno lo stesso esame da fare? In realtà sono anche esami diversi, ma la categoria è lo stesso, l'esame di fertilità. Nell'uomo è un problema, nella donna è un altro, quindi scindiamo questa pagina in due pagine e ancora non abbiamo parlato e ancora non abbiamo neanche minimamente accennato a quali sono le analisi da fare, perché io non le so, io Justin Rosati non faccio questo di lavoro, quindi perché mi sono dovuto far scrivere il testo? Perché nel momento in cui dovrò diventare tecnico, il tecnico, il vero biologo l'ha già scritto quel testo, ma l'ha scritto come se fosse una tesi, per quanto io gliel'abbia spiegato che doveva imporsi dalla parte del cliente, ti potrei anche far vedere, anzi lo farò sicuramente www.criticodigitale.it slash laboratorioanalisi, su questo link ti metto nelle note, troverai il testo prima e dopo la mia elaborazione, magari uno solo dei due, quello nella fertilità maschile che è quello che sto facendo ora per primo, quindi al momento della puntata vorrei fosse pronto. Li trovi lì, così potrai vedere come si cambia un testo da un fare tecnico a un fare pratico e operativo. Ecco, allora torniamo a noi, abbiamo scisso questo testo in due testi, quello per l'uomo e quello per la donna. L'uomo, dato che è un problema personale, cioè un problema io non riesco a, invece che io non riesco ad essere, io non riesco ad essere donna, io non riesco ad essere mamma, quello è il problema della donna, la prima cosa da fare è tranquillizzarlo. Allora tranquillizzarlo perché quando una persona si sente in problema così, dato che ha talmente tanta paura e per di più all'inizio per credenza popolare, per fatti storici, il problema era sempre della moglie, quando non si riesce a rimanere incinta il problema è sempre della moglie, lui è già poco propenso a venire a fare le analisi. Per di più, mentre le analisi della donna sono analisi diciamo del sangue e quindi non ovviamente anche dell'apparato, insomma, ma diciamo che sono abbastanza normali per una donna da affrontare, per l'uomo queste analisi sono molto diverse perché ricordiamoci che siamo entrambi adulti, spero che non ti scandalizzerai, ci sarà bisogno di una masturbazione per avere lo sperma, perché è lì che potrebbe essere uno dei problemi. Non solo lì, ma diciamo che la prima analisi da fare è questa, infatti è venuto fuori dalla biologa che ci sono due tipi di analisi. Uno potrebbe escludere la seconda analisi, nel senso che l'analisi A potrebbe rendere inutile fare l'analisi B e in molti, e ti assicuro che davvero in molti, da quello che mi ha detto mia moglie e la stessa dottoressa e quello che abbiamo analizzato poi dai dati effettivamente delle analisi, in molti arrivano con la ricetta o con la prescrizione del dottore di fare entrambi gli esami, entrambi, quando il primo già potrebbe escludere il secondo e quando il primo già costa parecchi soldi e il secondo ne costa altrettanti, parliamo di una settantina di euro, 80 euro ad esame, quindi se il primo viene positivo è inutile fare il secondo, ma proprio te lo spiego semplicemente perché la prima cosa che abbiamo detto allora è tranquillizzare l'uomo per la parte dell'uomo e gli abbiamo detto guarda stai tranquillo, sei stressato, hai cambiato alimentazione, hai cambiato compagna, hai avuto delle malattie di recente perché potrebbe essere questo che ti ha reso sterile perché se ci andiamo a pensare il momento in cui si vuole avere un bambino può rendere la… è il primo momento in cui si cerca di avere un bambino e quindi magari una persona non è mai stata sterile ma in quel momento lo è per un altro motivo e pensa di esserlo da sempre, questo è uno dei primi pensieri che si fa l'uomo, cioè io sono sempre stato sterile e non lo sapevo, non si rende conto che fino a quel momento non avendo cercato mai un bambino non lo sa quello che era la condizione prima e per sfortuna o per casi della vita magari in questo momento in cui lo cerca e lo cerca sempre nei momenti in cui ha una stabilità, ha una relazione seria, ha una certa età e lì ci sono di solito in questi momenti anche i maggiori momenti di stress perché sta lavorando, sta mettendo su casa, ha anche questa il dover mettere incinta la moglie è anche questo fonte di stress e quindi la prima cosa che noi scriviamo è ma sei stressato, potresti avere anche semplicemente solo una fase della vita che ti rende sterile, quindi stai tranquillo, per di più ma lo sai che una piccola infezione potrebbe renderti completamente sterile nel senso che il tuo apparato funziona bene, crea i spermatozoi ma nel momento in cui vanno verso l'ovulo, quindi nel momento del raccoppiamento dato che hai una piccola infezione interna o una piccola infezione proprio nell'ultimo punto dell'apparato, allora ti ritrovi che tutto quel lavoro fatto bene prima viene distrutto in quella fase, quindi stai tranquillo, ovviamente è scritto molto terra terra, mi rendo conto perché la prima opposizione che mi ha fatto mia suocera è ma così certo che sembriamo super quark, nel senso non parliamo tecnicamente delle analisi a fare, ma di là non c'è un biologo che vuole fare la tesi e vuole capire che analisi si fanno, non c'è un tecnico che vuole capire, c'è una persona che ha un problema, che in quel momento sta cercando una soluzione e che per prima cosa ha trovato un po' di serenità per leggere tutto il resto della pagina e capire se il laboratorio fa il caso suo e se deve fare delle analisi quali, perché la domanda analisi fertilità o problemi fertilità è molto, molto, molto ricercata su Google, questo si potrà tranquillamente vedere anche geolocalizzato sia per l'Italia sia per la provincia, grazie a Google Trends o altri tool tipo quelli delle keyword, si può vedere quante ricerche vengono fatte con queste tematiche e sono tantissime, quindi le persone hanno bisogno di informazioni e noi prima di diciamo tra virgolette vendergli l'analisi dobbiamo fargli capire che problema è e farli tranquillizzare e spiegargli bene senza termini tecnici e del tutto inutili, quindi lo tranquillizziamo, gli spieghiamo che potrebbe essere una semplice infezione, la seconda cosa che spieghiamo è che ci sono due step per fare le analisi nell'uomo e il primo step, come ti dicevo prima, la prima analisi potrebbe rendere del tutto ininfluente la seconda, la prima analisi è quella appunto dell'infezione, perché se c'è un'infezione è inutile andare a vedere se il tuo apparato funziona bene, perché potrebbe funzionare bene, è vero, però se c'è l'infezione comunque sia non andrà a buon fine tutto il lavoro fatto, quindi se c'è l'infezione fermiamoci un attimo, curiamo l'infezione, riprovi, se non va ancora bene ritorni a fare altre analisi, tra le altre cose se c'è un'infezione lo sai che potresti averla trasmessa alla tua lei, quindi inutile che vieni a fare solo tu le analisi e la cura, dovresti venire a far fare le analisi e la cura, poi successiva che ovviamente non prescrive il laboratorio analisi ma prescriverà il dottore, perché noi non diamo cure, ovviamente diamo solo risposte, però cerchiamo di condirle con un po' di sapere, perché ovviamente essendo biologi, essendo comunque a stretto contatto con questo tipo di problematiche, ovviamente si sa quali sono i medicinali che vengono dati, ma non vengono mai prescritti, non avrebbe senso, il lavoro è comunque quello di dare una risposta e la risposta è guarda che dovresti fare anche a tua moglie la stessa analisi per capire se ha l'infezione anche lei, perché se no la curi tu e nel momento in cui fate lavoro, in cui state lì insieme, ti ritrovi che la riprendi di nuovo o comunque sia anche se non la riprendi subito, il problema che fermava da te è ora ferma di là, quindi è del tutto inutile, quindi anche questa è un'informazione che nessuno dà, ma tu lo sapevi? Io non lo sapevo, io in questo momento diciamo che non ho mai avuto necessità, ma se qualcuno, se avessi necessità e trovassi una pagina scritta così, cavolo saprei cosa fare, perché è un tema poi delicato di cui magari anche con il proprio dottore si parla poco, perché magari l'uomo ha quel problema che si sente non veramente macio quando chiede queste cose, quindi trovare più informazioni possibile, trovarle dentro un laboratorio che ti spiega a punto a punto quali devi fare, ti dice addirittura che devi fare la prima analisi e risparmiare i soldi sulla seconda, risparmiare i soldi sulla seconda, non cerca di venderti, cerca di spiegarti e di renderti il servizio migliore possibile, allora questo sì che mi dà fiducia, se mi dà fiducia io ci vengo, io ci vengo da te, quindi fatto questo la seconda cosa spiegata è appunto questo fatto delle analisi di come devono essere svolte, che la prima rende inutile la seconda, che se nella prima viene positivo dovresti farlo anche a tua moglie, ricordati, quindi quasi quasi perché non vieni già direttamente con tua moglie a fare anche lei la stessa analisi, perché magari non si sa chi è che l'ha presa per prima, ma ovviamente essendo una coppia fissa immagino, è probabile che l'abbiate entrambi, alcune malattie sono possibili, altre no, però diciamo che senza scendere nel tecnico è questa la possibilità maggiore, noi cerchiamo di dare un servizio, quindi il servizio è quello di aiutarti ad essere più fertile e ricordiamoci anche questa cosa qui, ricordati anche questa cosa qui, non parlare mai in negativo, il problema non è la, il titolo che era stato dato a questo testo era come risolvere l'infertilità, e no, per quanto positivo perché è risolvere e parli di infertilità, invece è come essere fertile, come controllare se sei fertile, come ritornare fertile, quindi assolutamente devi parlarne sempre al positivo. Fatto questo devo portarti da me ovviamente, ma come ti porto da me? Perché questa pagina non deve essere soltanto di spiegazione, ma deve essere anche utile a me a raccogliere un contatto potenziale? Bene, allora per raccogliere un contatto potenziale ci sono molti metodi, ci sono alcuni nascosti in cui non c'è necessità di dichiarare chi sei, cosa fai, la tua email, il tuo numero cellulare, non c'è bisogno, ti posso poi inseguire con il remarketing, ma non è questa la pagina adatta, perché inseguirti con perché non vieni a vedere se sei fertile non è una gran pubblicità da vedere in giro, non è un prodotto, non è l'asciugacapelli che hai guardato su Amazon e ti insegue in giro per il web. Diciamo che non è questo il modo migliore per questa pagina e per questo tipo di prodotto. Qual è la soluzione che allora adotteremo? La soluzione che allora adotteremo è che la spiegazione di come funziona il test di fertilità, perché effettivamente tu lo sai come funziona il test di fertilità? Cioè io non lo sapevo ragazzi, io ammetto la mia ignoranza, ma io non lo sapevo e la persona che sta lì e deve fare l'esame. Molto probabilmente non lo sa e anzi mi dicono sempre che le domande sono sempre le stesse, le domande sono sempre le stesse, quindi basta pensare al cliente che cosa ti pone e dargli le risposte su quella pagina. Le domande che sono è ma l'esame si fa lì? Devo stare lì? Devo farlo lì? Me lo fate voi? Addirittura la domanda è me lo fate voi? Avevamo capito che c'è una masturbazione, me lo fate voi? Una persona si vergogna anche a chiederlo, qualcuno magari è anche abbastanza furbetto, dato che sono tutte belle ragazze all'interno, anche mio suocero è una bella donna, quindi all'interno dell'azienda sono tutte donne, qualcuno fa anche il furbetto. La risposta secca ormai che viene data è sì, però utilizziamo l'ago e allora tutti preferiscono di noi incredibilmente, a parte gli scherzi, è ovvio che poi va anche spiegato quali sono le condizioni con cui si fa questo esame. Le condizioni sono semplici, non bisogna avere nessun tipo di attività per le precedenti 48 ore, bisogna agire tramite masturbazione ovviamente, bisogna utilizzare un tubetto sterile o comunque una confezione sterile, adesso penso sia un piccolo vasetto che viene fornito gratuitamente ovviamente dal laboratorio, ma che è possibile anche acquistare in farmacia. Allora questo è un punto importante, un punto focale, perché dato che qui c'è un'esigenza, cioè io devo per fare questo esame devo avere questo oggetto, questo oggetto posso o andare in laboratorio e prenderlo gratuitamente, è vero, ma andare lì e dire che devo fare l'esame per l'uomo, mettiamoci nei panni di un uomo che deve andare lì, da queste belle ragazze o belle signore e dirgli che deve fare un test di fertilità, ha letto tutto, quindi sa tutto, sa che deve fare prima l'esame A e poi l'esame B, magari l'esame A l'ha già fatto, oppure in passato, oppure sì, gli arriva lì e gli dice sì, in questo periodo forse sono un po' stressato, magari vorrei capire di più, ok, perfetto, è nella condizione mentale di essere sereno di fare questo esame, non si vergogna, però effettivamente va lì e per la prima volta, magari davanti a una ragazza che non conosce, gli deve chiedere un barattolino per andare a fare l'esame della fertilità. Ecco, questo è molto, molto, come dire, sensibile come punto e allora si può sfruttare, sono cattivissimo, sono un marchettaro, si può sfruttare, ma io lo sfrutto nella maniera positiva per il cliente, per il mio cliente che è il laboratorio, perché infatti voglio aiutarlo e dato che non voglio costringerlo a venire lì in laboratorio e dire una cosa del genere e a vergognarsi, la prima informazione che gli do è compralo in farmacia, perché è un barattolino sterile, ci si può fare qualsiasi cosa, non solo l'esame della fertilità, quindi tu immagina quanto può essere contento di sentire che non deve neanche venire in laboratorio e dirmelo, annunciarmelo che deve fare l'esame di fertilità, può andare tranquillamente in farmacia, comprare dei barattoletti sterili senza spiegare a cosa gli occorre, quindi vanno lì, acquista e poi viene in laboratorio già con tutte le informazioni, quindi non ha dovuto avere attività di alcun genere per le precedenti 48 ore, deve aver fatto la masturbazione e messo in questo barattolino sterile in cui non deve toccare nient'altro e portarmelo, mi sembra, nelle prime due ore dopo l'atto perché altrimenti alcuni test non possono essere fatti, gli orari, io poi sotto ripeterò gli orari per venire a fare questo esame, gli orari sono tat tat, perché non è un esame del sangue, se me lo devi portare tu puoi venire anche alle 12 e in molti invece arrivano alle 7 di mattina perché pensano che debba essere fatto alle 7 di mattina e invece no e quindi gli do tutte le informazioni, ma allora come posso io pescare chi è questa persona, per prima cosa io confido anche nel fatto che dopo aver dato tutte queste informazioni viene da me, però questo è un lavoro che viene fatto a prescindere dalla pagina, altro lavoro che si può fare per capire chi sei e aiutarti è farti scaricare una guida, oppure darti informazioni più dettagliate sui costi eccetera, tutto ciò ovviamente protetto dietro un paywall, paywall non di denaro ma di informazioni, chi sei, che età hai, il tuo nome, la tua azienda, l'email, il cellulare, quello che vuoi, in questo caso noi chiederemo soltanto l'email, neanche nome cognome, perché gli diremo che avrà già il suo account creato sul sito web del laboratorio analisi e non dovrà neanche venire a ritirare le risposte, perché un altro punto molto sensibile è il ritiro delle risposte, cioè io sono lì con una ragazza o una signora, devo andare a capire se sono fertile o no e loro lo sanno, perché ovviamente devono firmare, non tutti, non tutti hanno accesso alle informazioni, ma di solito è la dottoressa, mia suocera oppure l'altra biologa che firma anche lei, i referti, che consegna i referti, ecco nella consegna c'è quella sensazione che lei sa già la risposta, cioè lei mi guarda in viso e sa se sono fertile o no e quindi anche quello è un momento di vergogna, quindi se gli dico guarda lasciami la tua email così posso già crearti l'account e quando verrai a darmi il barattolino per ritirare le risposte avrai già tutto nel tuo account, ti segnaleremo noi quando sono pronte con tutto il referto medico, ecco questo dà un altro ulteriore step di tranquillità al cliente, dice cavolo invece di andare tre volte, perché a ritirare il barattolino a portare il materiale e a ritirare la risposta vado solo una volta e dato che è una cosa molto sensibile è efficacissima come cosa, altra cosa che si può fare e che io avevo proposto è se mi lasci i tuoi recapiti, nome, cognome, email e via, ti mando io il barattolino, a mie spese ti mando io il barattolino, poi le recupererò durante l'esame, però tu non devi neanche venire qui, ti do l'opzione è gratuito se lo vuoi venire a prendere, ti do l'opzione puoi andarlo a comprare da solo in farmacia oppure allo stesso costo di quello che compreresti in farmacia te lo posso inviare a casa, quindi eviti anche quel problema lì, è un costo ovviamente perché se poi questa persona decide di non fare più il test, io ho speso dei soldi nelle prime due occasioni anche, però diciamo che i barattolini in sé sono poco costosi, costerebbe la spedizione, sarà all'interno della città per carità, però comunque un barattolino sterile va mandato con certi criteri, in una busta con della protezione eccetera, quindi insomma come capisci il problema sarebbe più che un problema sarebbe un investimento, quindi vediamo che cosa verrà fuori, però come vedi questa era una semplice pagina in cui si poteva scrivere semplicemente faccio l'esame A e B e invece è diventato un modo per accompagnare il cliente a fare l'esame A o B e siamo soltanto alla fertilità dell'uomo. Tutte queste considerazioni come vengono fatte, ti potrei spiegare la tecnica con cui lo faccio, è semplicissimo, mi faccio le domande, sono un criticone, se tu diventi un critico digitale, un critico di queste cose, pensi, inizi a pensare non al devo farlo ma al come farlo, a metterci un pochino di sale in zucca, vedrai che anche queste cose da anche tu che non sei un professionista e non le affronti tutti i giorni riesci a farle tranquillamente sul tuo testo, poi se hai bisogno di una mano mi trovi qui, io invece ho bisogno di una tua mano, io ho davvero bisogno di una tua mano perché voglio che questa trasmissione, vorrei che questa trasmissione diventasse più nota, più ascoltata da più persone possibili perché credo che sia veramente qualcosa che può, non dico aiutare, ma che può aumentare una certa consapevolezza e quindi se mi vuoi aiutare ti chiedo di lasciare una recensione su iTunes, puoi farlo attraverso l'applicazione podcast di Apple su qualsiasi iPhone o iPad ma se non ce l'hai basta andare su apple.com slash iTunes mi sembra, quindi scaricare iTunes se non ce l'hai per PC o Mac, lì cercare sulla sezione podcast critico digitale e lasciare una recensione, è complicato? Sì, infatti ti chiedo un grande favore, un grandissimo favore e questa recensione, se arriveremo alle 20 recensioni, questa trasmissione si trasformerà con contenuti ancora migliori, io spero di migliorare continuamente e facendo queste recensioni io mi ritroverò a salire anche in classifica, a essere più notato e quindi a pubblicare con frequenza come sto facendo adesso senza perdere di frequenza e con contenuti sempre migliori. Se vuoi invece scrivermi telegram.me slash giastirosati, lo trovi anche nelle note dell'episodio telegram.me slash giastirosati, ma già che qualcun altro l'ha già fatto, info chiocciolacriticodigitale.it se mi vuoi scrivere sull'email, info chiocciolacriticodigitale.it ovviamente criticodigitale.it è il mio sito web in cui in questo momento c'è il mio profilo LinkedIn, ma prima o poi ci sarà il sito web con tutte le sbobbinature di questi testi eccetera, i contenuti in più, tutto ciò che potrebbe accadere dopo le 20 recensioni. Io ti ringrazio di avermi ascoltato ancora oggi e alla prossima puntata di Critico Digitale. Criticodigitale.it Guide, storie e idee per gli imprenditori che vogliono capire come usare il digitale per far nascere e crescere il loro business. A cura di Giasti e Rossati